Bravo Aldo, bravo Aldo, va bene. Dai, al centro, veloci. Sì, Aldo, provaci, sì, sì. Occhio, girati, bravo Aldo, bravo, 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 dai, dai. Spira quel braccio destro, Aldo, via, bravo, spinalo Aldo, distrailo, spinalo. Tieni dietro le braccia, tieni dietro le braccia, tieni dietro le braccia. Va bene Aldo, bravo, bravo, grande. Aldo, tenete di andare adesso di lì, Aldo. Ok, via, bravo, ginocchio in mezzo, ginocchio in mezzo. Ora, ora Aldo, ok, perfetto. Grazie. Grazie, grazie. Strappo giù. Grazie. Lui, grazie. Guardate, c'era. Guardalo. Mettelo nella tua guardia. ribaltarlo ora Aldo dai su 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 che ci sta dai su abbraccialo Aldo abbraccialo Aldo non gli dare le braccia ribaltarlo ora 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 su